Eccoci, con i nostri nuovi cappellini andremo a fare la ferrata di Favogna partendo in bici da Bolzano e se tutto va bene fra due orette siamo lì, ci facciamo la ferrata. No, lì, a Magrè, non la Favogna. Non ci saranno tante riprese dell'andata in bici, secondo me, e ci vediamo probabilmente giusto su alcuni punti della ciclabile e poi direttamente all'attacco della ferrata. Ciao, ciao! Eccoci, siamo appena arrivati a ora. Dai, ci sta, il tempo è bello, molto bello. Bellissimo! E lì c'è ora, qui ci sono i nostri bici e niente, adesso vi facciamo vedere dove dobbiamo andare. abbiamo fatto 50 minuti da casa fino a qua, va bene, adesso dobbiamo andare ancora in là, a lungo, qui c'è il Monte Roel, qui ci sono i colli su di Monticcol, dietro c'è Caldaro, qua c'è ora. Niente, bello, mangia una barretta e poi si va avanti a pedalare, non è molto entusiasmante questa parte, quindi mi sa che ci vedremo direttamente a Magrè, dove lasciamo le bici. Siamo arrivati a Magrè, abbiamo lasciato le bici e andremo fino a quasi lo vero della luna, segniamo un'ora da Magrè al centro, a piedi fino all'attacco della ferrata e poi andremo sostanzialmente verso lì su da qualche parte e per ora non si vede, non sappiamo com'è questa ferrata, ma speriamo sia una cosa carina da fare. Esatto. Comunque, come al solito il lockdown ha iniziato a rompere. ma guarda qua i vici del fuoco eccoci all'inizio della ferrata o meglio all'inizio del sentiero e noi siamo venuti in bici da Bolzano qui ci sono ovviamente delle macchine che di sicuro non è tutta gente del comune di questo comune ma fatti loro, noi siamo venuti da Magrè a piedi fino a qua e da Bolzano così dopo possiamo arrivare a Magrè dopo la ferrata e da lì abbiamo le bici abbiamo pensato forse meglio e niente, iniziamo la salita grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti Primo pezzo fatto Guardate che bello Poi c'era il burrone Che è la parte più difficile della ferrata Ma l'abbiamo fatto Adesso da qua non si vede Adesso prosegue in maniera abbastanza facile I know that you miss me I know I know I know that you miss me I know that you miss me I know that you miss me Oh yeah Oh yeah Ecco adesso siamo arrivati alle scalette Che sono queste Ragazzi ricordatevi sempre di controllare i moschettoni per bene E di mettere prima uno e poi l'altro I know I know that you miss me 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 Grazie a tutti. 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 la nostra panchetta. a tutti. siamo distrutti. distrutti. a tutti. a tutti.